Allora, crisi di governo, DPCM, colore delle regioni, ancioni, rosso, gialli, ho l'autocertificazione, posso uscire di casa, tra l'altro dopo voglio andare a Lungomare di Fiamicino a prendere un caffè. Potevamo fare la cosa più assurda e l'abbiamo fatta! Dovevo combattere il capitalismo e sto passando l'aspiraporto. E poi c'era un'altra cosa che dovevo fare, ma non mi ricordo più cosa che dovevo fare. Pubblicare un disco. Perché ho fatto un disco? Perché ci siamo decisi che la collettività è una somma di individui. Perché lo stato sociale è una band che non ha paura di niente. Che va bene, sono delle belle frasi, però poi io ho dovuto indagare cosa vuol dire questa cosa qua e mi sono ritrovato a mettermi in discussione, a mettermi in difficoltà. Non volevo scrivere per davvero e alla fine l'ho fatto perché so fare solo quello e ho scritto un sacco di parole. Grazie a tutti!